Studieremo adesso il modo di utilizzare lo strumento per creare delle nuove mappe, Google My Maps. Faremo un esempio di utilizzo andando a collocare delle fotografie che precedentemente ho caricato nello spazio il mio drive. Sono delle fotografie che riguardano la città di Gibellina. Supponiamo di avere fatto ad esempio una visita scolastica a Gibellina e di volere fare una mappa della giornata, quindi piazzando la fotografia, le diverse fotografie e i percorsi che sono stati fatti all'interno della città. Allora clicco sul mio drive, altro, Google My Maps, clicco. Si apre Google con una mappa generica dell'Italia, cerchiamo Gibellina. Dobbiamo fare un po' di attenzione a quello che troviamo perché abbiamo eventualmente Gibellina nuova e Gibellina vecchia. Qua probabilmente se facciamo Gibellina, ecco, ci ha portato un po' fuori strada. Questo non è veramente il posto che stiamo cercando noi. Cerchiamo di nuovo, ecco, comune di Gibellina, nuova Gibellina, Trapani, questo è quello che cerchiamo noi. Infatti qua abbiamo la mappa di Gibellina. Con la rotellina del mouse posso fare avanti e indietro con lo zoom. Naturalmente questa mappa che stiamo vedendo in questo momento è una mappa di tipo, diciamo, topografico automobilistico. Possiamo scegliere altri tipi di visualizzazione, per esempio la mappa del rilievo oppure la mappa del satellite, cioè la vista dal satellite che forse è quella che in questo momento ci interessa di più perché ci consentirà di andare ad identificare i vari posti che abbiamo visitato. Allora, vedete che qua si è subito collocato un segna posto verde che io però non voglio, non lo desidero, quindi lo elimino da questa finestra. E dando un'occhiata a questa finestra vediamo che abbiamo, come abbiamo già fatto, la possibilità di regolare il tipo di mappa base e poi abbiamo dei livelli, cioè i livelli li dobbiamo immaginare come degli strati sovrapposti, trasparenti, quindi le cose che mettiamo sul livello si vanno sommando alle cose che vediamo sulla mappa e sugli altri livelli eventuali. Allora, a noi ci interessa per esempio vedere delle fotografie, quindi questo livello lo rinominiamo foto, ad esempio, e poi faremo un altro livello, aggiungi livello con i percorsi. Vediamo che cosa succede quando andiamo ad utilizzare questi livelli. Allora, partiamo dal livello foto, il livello percorsi lo deselezioniamo in modo che non abbiamo la possibilità di inserire nulla in questo momento sul livello percorsi. Identifichiamo, ad esempio, il municipio di Gibellina, che dovrebbe essere questo qua, qua dice Comune di Gibellina, vediamo se è vero. Ecco la piazza. Io so che ho una fotografia di queste sculture di consagra. Questa è la piazza, questa è la famosa torre campanaria, la torre civica, e questo è tutto l'edificio del comune di Gibellina, del municipio. Quindi per piazzare una fotografia posso fare, ad esempio, così. Clicco su aggiungi indicatore e lo piazzo in un punto corrispondente alle statue di consagra. Le chiamo, metto il titolo, statue di... più che statue sono sculture, scusate, sculture... non sto scrivendo più... sculture di consagra. posso inserire una descrizione testuale, aggiungo un'immagine, facendo clic sulla... facciamola di nuovo, sull'icona della macchina fotografica, aggiungo, facendo clic, aggiungo l'immagine. E posso aggiungerla da vari posti, in particolare avendole caricate sullo spazio drive, clicco su archiviazione, trovo la cartella Gibellina foto e apro le foto. So che quella che voglio collocare, già lo so, corrisponde a questa qui, quindi seleziono ed ecco che la foto è stata caricata. Faccio salva e ho a questo punto un segno a posto che contiene una fotografia, qua troviamo anche il nome. La fotografia si apre sia quando faccio clic sul segno a posto, sia eventualmente quando faccio clic sul titolo all'interno, il titolo riportato in questo riquadro. Se io voglio cambiare il tipo di segno a posto per indicare che ho inserito una fotografia, faccio clic e devo usare uno di questi strumenti. In particolare questo che recita stile, faccio clic e posso cambiare il colore del segno a posto, in questo caso ho messo questo arancio, ma quello che mi interessa in questo momento è andare a trovare l'icona che mi indichi la fotografia, cioè per esempio quella della macchina fotografica. Faccio clic e ottengo la macchina fotografica del colore che ho selezionato. A questo punto posso chiudere e quindi ho in maniera evidente l'informazione che di questo luogo posseggo una fotografia. Andiamo a mettere qualche altra fotografia, ad esempio so di avere una fotografia della chiesa della chiesa madre che è questa qui, quindi vado a piazzare di nuovo un segno a posto, scrivo il nome del luogo, chiesa madre, scelgo la fotografia e abbiamo questa selezionato, ecco qui, anche in questo caso andiamo a scegliere l'icona della macchina fotografica, lo facciamo dello stesso colore, mi pare che era questo, e abbiamo piazzato la seconda fotografia. Se ne vogliamo piazzare una terza, per esempio abbiamo una veduta di questa piazza, piazza del municipio, vado a scegliere la foto, seleziono. Ormai siamo maestri, salvo, cambio l'icona, colore e tipo d'icona, voilà, il gioco è fatto. Vogliamo adesso indicare dei percorsi, cioè i percorsi che abbiamo fatto all'interno della città. Supponiamo ad esempio che ci siamo spostati a piedi dalla piazza del municipio alla chiesa madre, quindi ci mettiamo a questo punto sul livello percorsi, e abbiamo almeno due possibilità, per esempio quella manuale. Vediamo quest'icona, traccio una linea, questa linea può essere una semplice linea, oppure possiamo informare il sistema che si tratta di un percorso, per auto, per bici o per pedoni. Scegliamo, eravamo a piedi, la visita l'abbiamo fatta a piedi, quindi scegliamo percorso per pedoni, facciamo clic sul punto di partenza, e andiamo, vedete che automaticamente si segue la strada, non ho bisogno di fare ulteriori clic, man mano sposto il mouse, mi piazzo qui, basta, sono arrivato, ha fatto una strana, no, ha fatto forse una strana, uno strano posizionamento. Vediamo se è vero, e abbiamo il percorso, abbiamo fatto, tra l'altro vediamo un livello nuovo, in questo caso si è fatto un livello indipendente da quello che abbiamo fatto noi, l'ha piazzato in un livello a parte. Ora il livello B recita via Vitaliano Brancati, ma io posso fare, chiaramente è il posto dal quale ci si ferma per guardare la chiesa madre o eventualmente per posteggiare l'auto, però noi siamo in un percorso pedonale. Io posso modificare, per esempio, aggiungendo destinazione e scrivendo direttamente chiesa madre, chiesa madre 9 g bellina, eccola qua, perfetto, ma infatti è la stessa posizione, a questo punto questo, dei Vitaliano Brancati, la cancello. Benissimo, a questo punto io ho un percorso pedonale da la piazza, in particolare la strada adiacente all'estate di consagra, sino ad arrivare alla chiesa madre. Una volta che abbiamo questo primo percorso, o potremmo dire la prima parte di percorso, possiamo aggiungere la tappa successiva facendo clic su aggiungi destinazione, per esempio supponiamo che siamo andati al sistema delle piazze, quindi cerco sistema delle piazze, eccolo qui, già trovato, sistema delle piazze, nuova g bellina, e vediamo che il percorso viene allungato sino ad arrivare per l'appunto al sistema delle piazze. Un'altra possibilità, questa è quella diciamo dei percorsi automatici lungo la strada, è utilizzare, questo lo eliminiamo, cioè non l'abbiamo eliminato, abbiamo semplicemente tolto dalla vista, eliminiamo la veduta in questo momento, ci ripiazziamo nel menu, nel livello percorsi, e supponiamo di fare un percorso che non segue la strada, e quindi a questo punto non può essere un percorso automatico, e facciamo semplicemente, tracciamo una linea, a questo punto tracciando una linea potremo, per esempio, partendo dal municipio, andare in posti altrimenti impossibili, per esempio qua stiamo lasciando la strada e stiamo andando lungo questo sentierino di questo tratto, diciamo di campagna. Ora chiaramente io lo sto facendo in maniera un po' casuale, qua una volta che facciamo doppio clic si chiude, si interrompe il percorso, e qua abbiamo per esempio passeggiata 1, non so che nome dargli in questo minuto, e quindi abbiamo visto una ulteriore possibilità di inserire un percorso. La cosa interessante dell'uso della mappa, a questo punto noi mettiamo tutti i livelli, stiamo vedendo tutte le informazioni che abbiamo inserito, quando vogliamo che qualcuno veda questa mappa, abbiamo naturalmente la possibilità di condivisione, quindi qua chiamiamo per esempio visita a Gibellina, mettiamo la descrizione, ok, e abbiamo un link che possiamo comunicare, oppure, vediamo, facciamo clic su anteprima, quando facciamo clic su anteprima, vediamo come le persone a cui abbiamo inviato il link vedono la mappa, eventualmente la possiamo copiare dalla stessa barra indirizzi e spedire per mail o con un altro sistema di messaggistica.